il lupo è sbagliato il problema è questo ci sono dei cesti e delle sedie e io non ho bene idea perché stiamo facendo questa cosa cioè a volte mi chiedo anche perché abbiamo un canale soprattutto per far vedere c'è il simulator si simulatore di sedia devi scegliere una persona e scegli la dolzellina vacante e carina si però voglio vedere se c'è quella pure è corinna copp se dovessi scegliere in base al mio gusto dell'orri ma sono tutti quanti youtuber allora nico dai nico the chef bingo bob nico sanchez pensavo fosse nico ma ti pare il modo di iniziare guarda tanto è carina bisogna sedersi e lei è un gigante lei è enorme pain in the ass o meter guarda quanto sale lentamente ma guarda se ci alziamo qual è lo scopo non lo so ok boomer ok boomer si ma ok senti che scorreggia che ha mollato prima di uscire vai premi e vai avanti vedi magari esci dalla porta dai comprati qualcos'altro siamo all'ikea perché possiamo comprare le sedie capisci però sono 1250 noi abbiamo soltanto scusa ma che possiamo fatto un cazzo no ma è cattivissima sta cosa ci sono altre sedie di là è un mondo pieno di sedie questo non ha fatto altro che prendere delle repository di sedie e metterci un prezzo poi saranno quelle più c'è il trono di spade cioè praticamente noi dobbiamo sbloccare le sedie per andare più velocemente capisci qual è il problema che parla è proprio un gdr vedi un po se ci sta una sedia che possiamo no non c'è niente che puoi comprare nulla sono tutte bloccate vabbè torniamo in quella cazzo di stanza sediamoci ti rialzo ogni tanto se no vabbè ma che fa no perché poi diminuiscono le cose da prendere capisci le monete da prendere quanto abbiamo pagato no che è decurto credo 12 euro hai stipendio compriamo una sedia da 50 comunque lei è sproporzionale e la casa è piccola o lei è enorme non lo so c'era l'unica sedia da 50 era di là è bloccata è pure rotto oltre che brutto forse devi superare il primo livello quindi devi arrivare a 250 sì ma se hanno la mamma puttana fbk aspetta aspetta l'ho scoperto una nuova di noi ce l'abbiamo pronta aspetta aspetta forse ci mettiamo qua davanti dio serpente bobby mi sono illuso scusa prenditi la sedia e portiamola magari la possiamo dare indietro però appoggialo si dietro gli altri si possiamo stare anche direttamente qua questa meccanica è atroce comunque facciamo così non ti dice niente nessuno tra le altre cose o vogliamo comprare questa quando sarà no vabbè se superi il 250 hai il 250 a disposizione però noi i seed points li abbiamo ma secondo me devi superare il primo livello si si sblocca questa cosa che strappamento di gonadi però vedi e vai allora non è bloccata secondo te è più confortevole questa o questa sembra questa ma vedi perché le dava bloccate very uncomfortable no è very uncomfortable quella si vede da lontano a very uncomfortable vabbè arriviamo a 100 dai arriviamo a 100 così possiamo permettere una sedia un po più 200 200 non c'è niente a 100 eh 200 figli di puttana la palla 250 50 vediamo questa se è buona very uncomfortable vabbè però credo ci faccia guadagnare più di quella che abbiamo già 25 sp per minute quindi fai 25 al minuto ok aspetta la nostra sedia invece fa non c'è 25 è uguale e costa 50 eeeh vedi e allora non ha senso non ha senso giocare a questo gioco sto d'accordo 5 minuti aspetta no dai ah sto scherzando mi vuoi uccide ma questo è il gioco questo è un suicidio si ma io non posso fare altro ma stiamo perdendo del tempo la vita è breve che facciamo tiriamo una granata lo chiudiamo lo disinstalliamo e non lo prendiamo mai più bravo oh ragazzi siamo arrivati ci sediamo su questa nuova sedia oh è uguale a prima non cambia assolutamente niente no no forse va più veloce e sale più lentamente il pendesso meter e allora ce l'ho metto cazzate prima tu vuoi superare il primo livello ormai ti capi poi so io quello almeno io faccio qualcosa di attivo così mi uccini ah no io non lo so questo gameplay quanto viene? 33 secondi guarda un ultimo ti insegno come si gioca guarda ti mette così però è importante il gomito sul tavolo la mano qua sulla testa poi chiudi gli occhi ma la cosa bella è che ci sono 100 sedie e noi abbiamo solo il 2% quindi ne abbiamo due bello eh ti stai emozionando ti vedo proprio emozionando che due palle no perchè stai continuando oh per due moltiplicati ah vedi adesso c'è il moltiplicatore per due capito è la stessa meccanica di qualsiasi gd aaaaaa noi ci vediamo al prossimo gameplay no no aspetta aspetta proprio adesso che abbiamo imbroccato guarda come c'ha le cose sono rotto i coglioni bruttissimo e spero che anche voi ve li siate rotti ma mai più mai più aspetta fammi arrivare a dai che cazzo devi fare ma veramente ma almeno 800 compriamo una ma sei scemo 800 prendiamo il trono di spade ma non mi caccare il minchio ci vediamo al prossimo gameplay non è servito niente mi dispiace ma io mi rifiuto di perdere del tempo così guarda abbiamo già 100 sip points mi dispiace dove lo ricominciare ma lo ricomincerò a casa alto f4 e passa la paura ci vediamo alla prossima gente ciao Grazie a tutti.